La scuola primaria Narvesa fa parte dell'imponente piano di investimenti del comune che mira a rendere le scuole di Pordenone sicure, moderne ed energeticamente efficienti creando un ambiente accogliente per alunni e insegnanti. Sull'edificio è stato realizzato un intervento di messa in sicurezza dal punto di vista sismico grazie al quale la scuola potrà essere utilizzata quale luogo coperto di raccolta della popolazione in caso di varie calamità. I lavori hanno previsto scavi fino a 4 metri di profondità rispetto al pavimento e la realizzazione di elementi verticali in cemento armato dalle fondazioni fino alla copertura. Con l'occasione sono stati rifatti anche i vecchi servizi igienici che non rispondevano ai moderni standard di qualità. Inoltre tutta la parte interessata dall'intervento è stata rimodernata con il rifacimento dei pavimenti e la ritinteggiatura delle pareti. Contiamo di finire per fine agosto i lavori interni relativi alla scuola Narvesa. Verranno traslocati anche tutti i materiali didattici che adesso si trovano nel prefabbricato in via Peruzza così che con il suono della campanella i bambini possano entrare nella scuola nuova, bella, funzionale, sicura, energeticamente con grandi prestazioni. I lavori esterni proseguiranno poi per il mese di settembre e dovrebbero terminare con il mese di ottobre. Chi sta seguendo il comune in questi mesi non potrà non apprezzare lo sforzo titanico fatto da questa amministrazione per sistemare, modernare e rendere sicuri ed efficienti gli edifici scolastici di proprietà comunale. È un impegno che siamo presi proprio perché la prima cosa da curare è la sicurezza di chi li frequenta, in particolare i bambini. Sapere che la Narvesa diventerà uno dei luoghi più efficienti al punto di vista sismico e quindi più sicuri al punto tale che la protezione civile l'avrà individuato come luogo di raccolta dei cittadini, speriamo non serva mai, beh credo che sia una garanzia per gli insegnanti, per i ragazzi e per i familiari. Questo piano di efficientamento energetico, edilizio, di efficientamento delle scuole è un obiettivo anche per migliorare la qualità della vita della nostra città. Servizi sempre più efficienti, sempre più di qualità, edifici belli e confortevoli sicuramente vanno incontro ai desideri delle famiglie per restare e vivere a Pordenone.